Bene ragazzi benvenuti finalmente in questo nuovissimo episodio domenicale dei super scherzi trasformati nei mob di minecraft Oggi come da votazione nello scorso video e si lo so che non c'erano tutti i mob ma era finito lo spazio per inserire le risposte del questionario E' uscito il ghast e quindi voi avete votato il ghast e quindi quante volte ho detto quindi non lo so Andremo a trasformarci in ghast per fare gli scherzi ai vari giocatori nel server In mia compagnia come nella scorsa puntata visto che non si può Cioè io non posso vedere il mio stesso ghast ma solo gli altri possono vedermi ghast C'è Charlie che mi farà delle bellissime riprese da registra minecraftiana Mentre sono trasformato in ghast ciao Charlie Quindi raga mi raccomando proviamo a raggiungere i 6000 mi piace sono tanti ma possiamo farcela Raga da telefono premete bene anzi gastate bene in modo che c'è il mi piace e adesso fai subito con la sigla Ok raga siamo pronti in questo momento sono in vanish e siamo sempre sul server di war academy Quindi passate anche voi a giocare su war academy perché sono oltre comunque a questa modalità dove siamo noi che è Lucky Skyblock Con un sacco di modalità fighe e così vi divertite con gli amici e tutto quanto Però ora iniziamo con il nostro video e facciamo quello che dobbiamo fare Siamo in questo momento invisibili ma siamo trasformati in ghast Allora cosa dobbiamo fare dobbiamo tipparci da qualcuno quindi cerchiamo qualcuno da spaventare Allora vediamo un po' Raga andiamo da MK Giuseppe Grande Giuseppe MK E vai con il teletrasporto Ok raga dov'è nella sua isola che è abbastanza piccolina Ha iniziato da poco e anche se qua vedo un non so che cosa Cos'è questa cosa qui è un non lo so una farm di mob Ma sa è abbastanza avanti MK Giuseppe anche se è iniziato da poco E cosa accade se improvvisamente un ghast appare qui su questa piattaforma di legno che stava costruendo Anzi no mettiamoci tipo qua fluttuanti Tipo così e leviamoci la vanish Ora raga sono un ghast Ciao MK Giuseppe Anzi spariamo delle frecce Così vediamo un po' Boh Ok così magari attiriamo la sua attenzione Ciao MK Giuseppe Sono un ghast alternativo lancia le frecce Non se ne sta accorgendo Ok se ne sta accorgendo Ora sono immobile Cosa farà adesso? Ciao Mi lancia le frecce no non è vero Ok adesso faccio tipo così E ora gli cado in testa Ha Ti sei spaventato eh Mi stai picchiando Sono immortale eh Ti seguo Ti seguo eh Cosa mi picchi che sono immortale eh Stai picchiando un bellissimo ghast Stai picchiando un ghast eh Eh Cosa vuoi eh Cosa vuoi Lui non sa che i ghast possono lanciare delle fortissime palle di fuoco Ma io sono un ghast finto quindi cioè tipo le lancio con il dispenser Capito perché sono finto E ti sparo il palle di fuoco Ha 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 Sono un ghast fortissimo Però lo rompo perché adesso basta Abbiamo già ucciso abbastanza Non hai acqua frate c'è l'acqua qua Ma ti stai Ma E tra l'altro Dove sta andando? Mi sto scendendo dentro casa Ciao Come stai? Tutto bene qui dentro eh Mi sto droppando delle lacrime di ghast Perché mi hai ucciso Ciao MK Giuseppe Andiamo a spaventare altri giocatori Ragazzi è Diego Spartan Il più grande spartano Degli ultimi 58 anni È nella sua isola Ha iniziato da poco anche lui Ma ha la skin di it tipo Ok Ciao Skin di it Ma mi vede? Come fa a vedermi? Cosa sta picchiando? Ah dei pipistrelli No vede me No Non vede me Sta cercando di picchiare i pipistrelli Ok Caro Diego Diego Spartan eh Ti metti la skin di it Perché vuoi spaventare le persone E invece Spaventirò io con il mio ghast Così Vediamo se mi vede Ciao Diego Spartan Tantossi non si girano mai Finché non gli sparo le frecce Ok Non ce l'ho Ok se ne ho accorto Ciao Diego Spartan Sono qui Non mi vedi Cosa ha scritto Diego Spartan? Ho completato la sfida Amo i meloni Bravo Diego Spartan Ti piacciono i meloni Cosa sta facendo? Dai vieni qua Torna qui eh Tornaci Tornaci qua se hai il coraggio Non fa niente Ora mi avvicino a lui Via un po' No niente Continua a piantare i suoi meloni Inizialmente mi avvicino Mi sta tenendo un'imboscata Invece no Cosa vuoi farmi eh? Vuoi picchiarmi? Vuoi picchiarmi eh? Eh Cosa vuoi fare? Vuoi buttarti? Non fai niente 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 Salve Se ne è andato No No se Secondo me pensava tipo Ok sto laggando Non riesco a colpire Il gasto Invece no Sono io Che cavolo è Che cavolo è Mi stavo sticchiando Oh è tornato Tornato dov'è? Eccolo Eccolo Guarda che sta laggando ancora eh Vieni qua Vieni qua Seguimi Seguimi Eccolo che arriva Eccolo che arriva Ciao it Come ci si sente? Lo sai che il gast li mangia i blocchi dopo averli piazzati, vomitati? Come tu mangi i bambini Come it Tu mangi i bambini eh Tup 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 Sembro pacman Tup 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 No No Se ne è andato Non voglio Eh no Senta hai trasportato lì No Ti mangerò Dagli fuoco Viero Hai ragione Sono un gasto alla fine Posso dargli fuoco No poveri No no Si sta uccidendo No 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 Perché Perché No Ti sei suicidato per la specie Avilacqua qui Perché C'è Fragio Bru 07 C'è una crisi di identità Si chiama Francesca Giorgio Comunque Diego Spartan Ha appena messo un cartello Che ha scritto Ita Ma perché? Non lo so It Che cavolo Che ne so Ita Che cavolo vuol dire? Ma che vuol dire? Ok Piacere Ita Che cavolo devo scrivergli? Paranormal King Grande Paranormal Paranormal No aspetta Devo tiparmi Tipi Paranormal King Cioè siamo passati da It A Paranormal Activity Cioè se stanno a fare tutti i film horror Praticamente Ok cosa sta facendo? Oh lui da poco ha iniziato però eh Adesso adesso Ho appena ampliato la sua base Ok adesso Lo fisso qui Transforming Gast Vediamo se mi vede Mi sta vedendo Si Ciao 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 Guarda il mio bici Piano 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 Sparo il fuoco dalla bocca Forse non ci è cascato Sparo tanto fuoco dalla bocca Ti circondo di fuoco dalla bocca No 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 Non mori Ma è qui l'acqua Ok ok Bravo uno intelligente che non si è suicidato Sono qui dietro l'albero Mi vedi dietro l'albero? Come si è nascosto bene C'è un gas Aiuto ha scritto Non so come mi sto muovendo sinceramente Sono la panza buffo Ma aspetta I tentacoli sono tipo sotto di me adesso? Si Ok quindi tipo così sembra il cammino sui tentacoli Si Pom 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 poro Pom 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 poro Com'è possibile? Rimani lì in acqua Vediamo se riesci ad uscire Da questo Da questa prigione di fuoco Del gas Sai che ti dico? Io ti lascio un gas vero E me ne vado Oddio questo mi spara veramente no? Poverino Adesso trapasso il gas vero Mi sono dentro al gas vero E mi giro di qui È morto No No paranormal No tutte le sue cose sono qui Ok per fortuna Non prenderle Non prenderle Non le prendo Non le prendo E che sono talmente grosso ma Potrei prenderli ma non le prendo Oddio che ho trovato? Cosa? Cicoriello Che? Cicoriello La cicoria più bella di minecraft Cosa sta facendo Cicoriello? Niente Ha delle frecce in mano E ha una skin molto buffa Cioè non capisco quale è la faccia Perché ha delle bocche in ogni faccia Non sta giocando Cicoriello però Cioè non ho capito Se è entrato una compagnia di tedeschi sul server Cioè tipo Tagful19 Vladluk Poi c'è Kotzig Cioè capito? Cioè sono proprio tedeschi Raga Siamo da minecraftaro E non si sa dove diavolo sia Aspetta vedi tipo da lui Ok Ha un isola Eccolo qua Guarda che cavolo di farm Ha Pensa se Guarda quanto sta farmando Ma è fortissimo Ok Chissà a cosa accade A parte che ha un'isola devastante Cioè è tipo Non lo so Ci ha perso le ore Improvvisamente adesso gli apparirà un ghast All'interno della farm Di schede Ma come è possibile? È un bug È un bug Allora pronti? Vai Ok Non se ne accorge Se ne accorto Prova a colpirmi Ma non ci riesce Incredibile Incredibile Il ghast inizia a scappare fuori dalla porta Incredibile E gliela chiude anche Non sta a continuare a rompere le schede Cioè è come se nulla Cioè un ghast Gli ha appena anche passato davanti Allora senti 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 io ti entro da qua Oh Ciao Mi sono affacciato Come va? Tutto ok? Eh? Va tutto Non se ne accorge Guardalo Ma secondo me è buggato Cioè non può Non è normale che ci da così tanti scheletri Ma pensi sia sulla super farm di non so che cosa Aspetta eh Ok ancora hai continuato a colpire il ghast Ma niente Ok se ne accorge C'è il ghast? Ma ancora? Basta uccideresti i cosi Te li rompo Ciao Sei geloso Da più importanza agli scheletri che a te Ok ok Calma 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 Sono un ghast pasticcione E ti rompo Il scatolone Il scatolone No dove è andato? Dove è andato? È qui Gli ho creato un muro di pietra Perché il ghast crea muri di pietra Lo sai Mi stanno griffando l'isola Aiuto Non riesce a colpirmi Sai che il ghast affuoca le cose? Non ti avvicinare al ghast Il ghast brucia eh Ti ho fatto casa più bella Sei contento? Guarda lo scheletro è uscito Lo sta inseguendo Ok Ok ragazzi Questo video finisce qui Spero vi sia piaciuto Penso che Baventare giocatori Trasformati in ghast Siamo delle cose più difficili Mai esistite Perché non possiamo neanche rompere le scatole Visto che siamo grossi così E ci vedono anche da 8 km di distanza Quindi è super super difficile Comunque vi lancio questa sfida Quindi nel Nel sondaggio che apparirà ora Tipo qui O qui Non lo so Selezionate voi il prossimo mob Che vorrete Insomma che io faccia Ovviamente ci saranno tutti quanti A parte il creeper e il ghast Che abbiamo già fatto Poi se ci saranno tantissime richieste Vi faremo il creeper e il ghast Insomma Però comunque Votate uno di quelli Quindi raga per questo video è tutto Vi ricordo anche di andare su waracademy Quindi mc.waracademy.com Per giocare Sono un sacco di miei game molto molto fighi E di modalità molto molto fighe Niente raga Passate da Instagram Che è molto molto importante Iscrivetevi al canale Se ancora non foste Che ti perdono perdervi I prossimi video Saluto Charlie La ringrazio Che mi ha dato Mi ha Oh raga oggi non so parlare Aspettate eh Ringrazio Charlie tantissimo Che oggi mi ha aiutato Con le riprese Ciao 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 Charlie Grazie Ciao 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 Linea allo studio Bella Il mi piace Mi raccoma E' importante